E' stato scarcerato Domenico Romeo, l'ex sindaco di Taurianova, che era stato arrestato nella maxi operazione della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria il 12 dicembre scorso. Insieme all'ex primo cittadino è ritornato a casa anche il fratello Antonio. Sentiti telefonicamente i legali di Romeo, gli avvocati Rocco Iorianni e Giuseppe Alvaro, hanno confermato la decisione dei giudici togati di annullare l'ordinanza di arresto del 12 dicembre scorso. Dunque si ridimensiona notevolmente l'inchiesta della procura di Reggio Calabria. Romeo è stato per due volte sindaco di Taurianova. L'ex sindaco era accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. In modo particolare veniva contestato di aver favorito le aziende di rettura Domenico quando era primo cittadino di Taurianova. La notizia era nell'aria dopo che ieri il tribunale di Reggio Calabria aveva fatto accadere le accuse contro i fratelli di Amato per istorsione nei confronti dell'architetto Cardona. Antonio Romeo è difeso dagli avvocati del Foro di Palmi, Giuseppe Martino e Francesco Cardone.